Tu hai involucrato solo per questo? Vito, sei un insensore. No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Far ti ammazzi. Allora... Sei pronto per il tuo destino? Non so come avrei fatto finora senza di te. Ma guardati. Piantala. Oh merda! Che cazzo è stato? Era una trappola. Una cosa? Trappole esplosive. Guarda dove metti i piedi. Guarda qui! Guarda! Ok. Temo che dobbiamo scendere. Temo che dobbiamo scendere. Temo che dobbiamo scendere. Ehi, guarda. Secondo te cos'è? Qualcuno vuole che accogliamo l'amore. Pensi abbia a che fare con i lupi? Non lo so. Ma è piuttosto strano. Oh, porca troia. Hanno sperato a tutti. Guarda. È di Tommy. Gli infetti se la sono spassata. Stai bene? Sì, scusa. È solo la puzza. Va bene. Avrà proseguito a piedi. Tu te la senti? Sì, sto bene. Davvero. Come si è ridotta questa città? Boston non era così, vero? A Boston non c'è stata una vera guerra civile. Le luci non hanno posto troppa resistenza. Vedi lo studio tv? Sì, da quella parte. Più in alto. Wow. Altri corpi. Crivellati di colpi. Tommy è passato di qua, sicuro. Scommetto che è andato di là. Barricata robusta. Ok. Beh. Fermati. Trappola. Merda. Che occhio. Sono ovunque. Saranno per gli infetti. Eppure... Un passo in più. Sì. Stiamo attenti. Fantastico. Funziona? Sì. L'ho imparato da Joy. '! Sì. Ha. Sì. 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 Già! Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Oh, cazzo. Brutale. È stato Tony? Entriamo. Oh, cazzo. 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 Oh, cazzo, 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 cazzo. Porca. Qui Tommy non c'entra. Chi cazzo è stato? Non lo so. Un avvertimento. È appena successo. Pensi siamo ancora qui? Spero di no. Ma stai allerta. Di nuovo quel disegno. Chi sono questi tizi? Altri che odiano il VLF. Beh, sembrano parecchio strani. Chi cazzo è? 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 'si i Guerco chiuso è? Chi cazzo è? Chi cazzo è? No, chi cazzo è?" their legitate la propria si era meglio dicer attraverso Merda Un altro corpo lì Non mi piace Siamo troppo esposte Dobbiamo cercare ovunque Voglio trovare Lea Solo sta attenta Non mi piace Hai sentito? Che succede? Ciao è lei lì è sicura? sì quando si dice avere l'universo contro non ha niente con sé 6, qui sito 2, ci ricevete? 6, rispondete, passo Dina guarda, ci sono tutti aspetta è vicino a Jackson come ridono gli stronzi è lei è quella che l'ha ucciso ho tre in meno, giusto? ho tre in meno qui sito 2, ci ricevete? unità di supporto India in arrivo allo studio tv ripeto, unità India in arrivo sì, è meglio muoversi è morta come ti senti? sono incazzata perché volevo parlarle già ma non ha fatto nulla, Joel avrebbe avuto poco senso costringerla a parlare ha fatto parecchi chilometri per torturarlo non mi importa se l'abbia ucciso o meno capisco vuoi cercare un colpo sicuro? e frugare nelle sue cose? certo merda giù, presto come facciamo a uscire da qui? con me che stai facciamo a uscire da qui? ti tiro tutto prima, controlliamo il palazzo attenzione di là la torta è vencerarmi vai! giù Alla prossima 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 La via Alla prossima Con Alla prossima 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 Vediamo Sembra Alla prossima Ehi Merda Merda Alla prossima 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 Only Vieni, ti do la mia. No, 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 no! Non toglierla! Dina, no! Ellie! Ferma! Cosa? No! Ellie, no! Basta! Non sono infetta! Sono immune! Non sto tossendo, vedi? Cazzo. Dina! Merda. Puoi correre? Sì. Sì! Allora andiamo! Forza! Corri, Dina! Ellie! Corri, vado all'estate! Che cuore! Cazzo! Cazzo! Aprende! Andiamo! Cazzo! Muoviti! Dina! E? Che ne diresti di un riposo in un teatro? Mi sembra una grande idea. Ci siamo quasi. Tranquilla. Vieni. Ci sei? Forza! È sicuro? Vieni. Vuoi dirmi cos'è che non va? Che cos'ho che non va? Ellie, ti ho visto respirare le spore. Te l'ho detto. Sono immune. Ok. Sei immune. Ma smettila. Mi hanno morsa molti anni fa. Che cazzo stai dicendo? E dopo il morso non è successo niente. La bruciatura. Maria e Tommy e Joel sono gli unici che lo sanno. Sapevano. e ora anche tu. Non posso... infettarti se è questo che ti preoccupa. non ha neanche renderti immune. Non ha neanche renderti immune. Puoi dire qualcosa? è il mio. È il mio. Credo di essere incinta. Cosa? Tranquilla. Non è tua. E quindi che... Quindi che facciamo ora? Niente. Devo solo riposarmi un attimo. Ma che cazzo? Da quanto tempo lo sai? Ho un ritardo di qualche settimana. Qualche settimana? Potevamo... Potevamo tornare indietro. Non lo sapevo. Non ero sicura, ok? Non volevo essere un preso. Ora invece non lo sei, vero? Vado... Controllo che qui sia sicuro. Tu riposati. Non... Chissà quanti personaggi muoiono qui. Ah, è incinta. È incinta, cazzo. Come si fa a mantenere un segreto così? Ah, merda. Ok. La nota è vecchia, ma è meglio stare attenti. Grazie. 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 Che cos'è? Ok. Ok. Wow. Joel, sarebbe bello guardare un film qui. D'accordo. D'accordo. Dividi. Non ci credo. D'accordo. 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 Grazie a tutti.